Ben trovati all'appuntamento con Dentro il Consiglio, il nostro settimanale che ci porta all'interno del Consiglio regionale della Toscana. Come nostro solito sono tre gli argomenti che affrontiamo in questo nostro incontro. Il primo si parla di migranti, no alla realizzazione di un centro di permanenza per il rimpato, discusse e votate tre mozioni in aula sull'argomento. E poi è stato approvato il bilancio 2022 dell'ente parco regionale della Maremma, festeggeremo anche la quinta edizione del Foiano Book Festival che si terrà fino al 20 novembre a Foiano della Chiana. Il primo appuntamento ci porta, come avete sentito dai titoli, a parlare di migranti. È stata approvata a maggioranza dall'Aula del Consiglio regionale della Toscana la mozione del Partito Democratico, il primo firmatario, il capogruppo Vincenzo Seccarelli, che impegna la Giunta a manifestare in ogni sede utile la ferma contrarietà a ogni ipotesi di CPR. Questo è un acronimo che troveremo anche nei commenti dei consiglieri, sta per centro di permanenza per il rimpatrio. Quindi 24 voti a favore, PD, Movimento 5 Stelle e Italia Viva, 12 voti contrari, Lega e Fratelli d'Italia. Sono state invece respinte le mozioni presentate da Fratelli d'Italia, prima firmataria è stata Elisa Tozzi, in merito all'adesione della Regione Toscana all'intesa nazionale sui migranti e quella della Lega, in questo caso prima firmataria capogruppo Elena Meini, in merito all'istituzione necessaria di un CPR, quindi come abbiamo detto un centro di permanenza per il rimpatrio in Toscana. Troppo facile sciacquarsi la bocca con la parola sicurezza, invocare il ministro degli interni per un aiuto, chiedere al governo che intervenga, anche oggi leggiamo che 30 sono i militari che arriveranno nei prossimi giorni solo a Firenze dopo una richiesta di aiuto direttamente al ministro Piantedosi del sindaco Nardella, però quando il governo chiede Toscana facciamo un accordo, firmiamo un protocollo d'intesa come la maggioranza delle altre regioni per istituire un CPR, la risposta è no. La sicurezza parte e passa anche da un CPR, in Toscana il CPR lo faremo, in Toscana il CPR il governo lo farà, lo farà naturalmente perché arriveremo anche ad un accordo con la Regione Toscana, a un accordo su dove il CPR nascerà, un accordo con i sindaci, un accordo con l'Anci, perché c'è bisogno di ridurre i tempi, c'è bisogno di ridurre i costi. Pensate a quante ore la nostra polizia, i nostri carabinieri trascorrono in macchina portando un singolo immigrato in un CPR che è molto distante dalla Toscana. Abbiamo bisogno di questo, abbiamo bisogno di più sicurezza, abbiamo bisogno di più militari, il governo risponde sì ogni qualvolta la Regione o i sindaci senza distinzione di colore chiedono un contributo o un intervento da parte del governo e questo deve essere reciproco. In un CPR non ci deve essere ideologia, non ci deve essere idee che si cerca di trasmettere ai propri cittadini dicendo che sono luoghi di disumanità perché così non è. Io mi chiedo e ho chiesto anche alla sinistra poco fa in Consiglio regionale, ma quando la disumanità era nei centri di accoglienza, quando 70, 80 centri immigrati vivevano in 40 metri quadri, ecco in quel caso la sinistra non si indignava, non ci deve essere differenziazione di trattamento, non ci sono centri di accoglienza di serie A e centri di rimpatrio di serie B. L'umanità deve esserci sempre, ma deve esserci sempre anche la sicurezza e la tutela del cittadino in primis anche in Toscana. Questa è la dimostrazione concreta del fallimento che il centro-destra sta facendo sulla questione che riguarda l'immigrazione. Ha fatto tutto l'opposto di quello che aveva promesso, i sbarchi sono aumentati, il tema dell'immigrazione sta travolgendo il nostro Paese e non si stanno trovando delle risposte coagenti e puntuali per risolvere questa questione. Il modello che abbiamo in mente noi è quello dell'accoglienza diffusa, provare a diffondere sul territorio la forma di accoglienza, ma bisogna anche limitare gli accessi e questa è una risposta che serve da parte del Governo e questo sta mancando. Evidentemente non si può poi trovare la scorciatoia di andare a creare una sorta di lagare in Toscana, laddove concentrare un numero indiscriminato di persone che vengono accolte, giustamente salvate nei mari, ma questa non è una risposta, serve fare un'azione di Governo che sta mancando oggettivamente. Avevamo proposto che ci fosse un impegno formale dal Consiglio regionale fino alla Giunta a sottoscrivere gli accordi con il Governo nazionale che appunto aprissero la possibilità alla Toscana di avere anche delle risorse da investire sul tema immigrazione, a prescindere dalla questione CPR o meno. Sappiamo tutti che i numeri sono numeri difficili da sostenere, sono numeri che non possono essere compatibili con il sistema dell'accoglienza diffusa, il tema è talmente serio che oggi comincia ad essere impellente scegliere anche di fare il CPR. Purtroppo la Toscana ancora una volta si pone a blocco contro il Governo nazionale, lo fa per un pregiudizio esclusivamente ideologico, non rendendosi conto che questo approccio in realtà è distante anni luce rispetto a quella che è la percezione del tema che hanno i cittadini. La speculazione che si fa sul tema immigrazione ormai è sotto gli occhi di tutti, si richiama costantemente alla responsabilità del Governo nazionale quando sappiamo bene che per decenni il messaggio che è stato mandato dai precedenti governi di centro-sinistra è stato quello per cui in questo Paese si potesse arrivare in modo indiscriminato attraverso i barconi perché tanto qualcuno avrebbe soccorso nel Mediterraneo. Questo ha lasciato la strada aperta a favorire anche un traffico illegale, oggi si richiama l'attenzione su questo tema in modo molto più forte anche in Europa, dire che il Governo non sta facendo niente su questo credo che sia concentralmente sbagliato e soprattutto privo di qualsiasi onestà intellettuale. Invece la Toscana oggi sarebbe stata chiamata a fare la sua parte con uno spirito di maggiore collaborazione, ancora una volta ci siamo trovati di fronte a un muro ideologico. Dal dibattito che ne ha scaturito abbiamo anche compreso qual è la concezione che la destra ha dei CPR, cioè vale a dire un surrogato delle carceri, ma non è questo, cioè le persone che delincono in Italia di qualsiasi nazionalità siano devono andare in carcere, ma chi non ha i requisiti e chi non ha commesso reati non può stare fino a 18 mesi in dei luoghi che si rivelano dei luoghi di detenzione spesso anche gestiti in qualche modo da personale che non è sufficientemente specializzato. Ecco perché noi abbiamo con questa mozione ribadito il nostro no alla realizzazione del CPR in generale e in Toscana in particolare e abbiamo anche invitato la Giunta ad esprimere questa posizione, a continuare ad esprimere questa posizione nei confronti del Governo e a cercare invece assieme alle altre regioni con il Governo delle soluzioni che siano soluzioni integrate, che siano delle soluzioni che abbiano le caratteristiche dello strutturale e siamo anche preoccupati dal fatto che pare esista invece un piano del Governo per realizzare questi centri, uno anche in Toscana e per quello che leggiamo, perché anche ora di ufficiale non c'è nessuno e anche sindaci del centro-destra che dovrebbero vedere sorgere questi centri e loro territori si stanno ribellando e ribellando in maniera molto decisa e fra l'altro strutture che sembra abbiano proprio delle caratteristiche che più che strutture per l'accoglienza e per la permanenza somigliano a delle vere e proprie carceri. Non è questa la strada che possiamo seguire. Il problema nasce anche a livello europeo, non sono stati in grado nemmeno ora che sono al Governo a far rivedere il Trattato di Dublino che è così fortemente penalizzante per l'Italia, ma soprattutto non si affronta il problema umanitario. Ecco, qui è stato palese la diversità di differenze e di sensibilità fra la destra e il centro-sinistra. Io vorrei però evidenziare, come ho fatto anche in aula, che forse sottovalutare il sentimento di insicurezza e la percezione di pericolo e di paura che è nella popolazione da parte del centro-sinistra è un problema e soprattutto un grave errore perché è quello su cui il centro-destra ottiene sempre maggiori consensi. Quindi una soluzione va trovata e soprattutto va pubblicizzata, va affrontato il problema e proposto delle soluzioni che non sono sicuramente semplici, sono soluzioni complesse, se ne sta rendendo conto anche il centro-destra ed è evidente che la discussione di oggi cerca di ributtare la palla in tribuna cercando di trovare delle soluzioni a livello regionale e comunale, ma non è così. L'Aula ha approvato a maggioranza con il voto di assenzione dei gruppi di centro-destra, nel voto contrario del Movimento 5 Stelle, il bilancio di esercizio 2022 adottato dal Consiglio Direttivo dell'ente Parco Regionale della Maremma. La comunità del Parco, composto dai sindaci dei comuni di Grosseto, Orbetello e Magliano in Toscana e dal Presidente della provincia di Grosseto, non ha espresso il parere così come previsto da normativa regionale, mentre il Collegio dei Revisori ha dato parere favorevole. Una bella realtà, un ente che ha un bilancio positivo, anche se è stato un pochino inferiore rispetto ai momenti del Covid, dove le persone erano ancora di più sul nostro territorio, però il bilancio è positivo non soltanto dal punto di vista economico, ma è positiva anche la programmazione che si pensa di fare all'interno del Parco Ente della Maremma. Quindi una splendida realtà che deve andare avanti e devo dire che oggi la discussione in aula ha portato delle lodi anche da parte dell'opposizione per come si pone, per come è attrezzato e per quali sono anche i programmi di ampliamento sulla sentieristica che c'è all'interno del Parco. Abbiamo voluto dare un segnale positivo, siamo stati come Commissione a visitare quella struttura, abbiamo parlato con chi dirige il Parco alla presenza anche degli amministratori locali che si trovano bene con questo ente che è discretamente gestito. Infatti da un punto di vista di risultati positivi c'è la tenuta dei conti, il rispetto dei tempi, perché in Consiglio regionale a volte arrivano bilanci di previsione con ritardo di due o tre anni, in questo caso oggi approvavamo con il nostro voto di astensione il bilancio consuntivo 2022. Ci sono però anche alcune ombre legate per esempio alla mancanza di personale sufficiente, questo ci è stato detto dagli enti, dai soggetti che gestiscono il Parco, così come una mancanza di monitoraggio continuo della spesa, per cui ci sono degli sfasamenti all'interno della gestione che sono stati segnalati dagli organi di controllo. Rispetto alla media di come vengono gestiti i parchi comunque in Toscana, ci aspettiamo che si riesca ancora a migliorare, magari aumentando, della richiesta che abbiamo fatto, la valorizzazione promozionale, il brand, la capacità cioè di stare sul mercato legando la funzione di conservazione naturale alla promozione sia nei confronti dei ragazzi che alla conoscenza dell'immenso patrimonio naturale della Toscana. I membri della Commissione si sono recati sul posto, quindi hanno potuto anche dar luogo a un sopralluogo, a prendere un pochino anche atto di quelli che sono queste realtà. svolgendo una commissione a contatto anche con tutti i riferimenti del territorio della Maremma, quindi sindaci, presidenti di provincia, insomma riferimenti di tutti gli enti istituzionali, abbiamo verificato che intanto c'è un bilancio in positivo, seppur forse da un certo punto di vista quasi troppo in positivo, e quando c'è un bilancio molto in positivo, di solito come abbiamo rilevato, c'è anche un problema di programmazione. Però il Presidente del Parco ci ha rassicurato da questo punto di vista che così non è, è una situazione un po' eccezionale di questo anno, e quindi anche la gestione delle risorse tornerà ad essere programmata in modo ottimale. Quello che ci ha invece posto qualche dubbio è il fatto che non c'è stato, lo abbiamo verificato, il voto della comunità del parco, cioè la comunità del parco non si è espressa. Anche qui il Presidente ha dato delle rassicurazioni, facendo notare che è prassi, come dire, non intervenire, però sotto questo profilo riteniamo che invece sarebbe utile che la comunità del parco esprimesse, esercitasse quello che è il suo ruolo, anche perché si potrebbe pensare eventualmente anche a una carenza di ruolo politico, cosa che il Presidente ci ha escluso. Evidenziato questo, però, oggettivamente, l'approccio, ripeto, è diverso da quello che troviamo negli altri parchi, e il voto della Lega è stato un voto di astensione. Rimaniamo sempre nel sud della Toscana, ma dalla parte est, a Foiano della Chiana, la quinta edizione del Foiano Book Festival, la rassegna promossa dal Comune, con la partecipazione della Regione Toscana e della provincia di Arezzo. Il Festival propone l'incontro con autori, sia a livello nazionale che internazionale, con spettacoli di tipo concertistico, teatrale e cinematografico, si terrà fino al 20 di novembre. È un momento bello e importante, noi abbiamo deciso di dare voce a quelle realtà più piccole, che hanno una grande capacità di saper raccontare quanto è bella la Toscana. La Toscana è terra di arte, è terra di cultura, è terra di turismo, e tutto questo si tiene insieme nella quinta edizione del Foiano Book Festival. È un modo per parlare di cultura attraverso i libri. Investire in cultura vuol dire investire in libertà, vuol dire dare alle persone più coscienza critica, ma insieme a questo c'è la possibilità di conoscere uno tra i borghi più belli della nostra regione, perché abbiamo la necessità di dare spazio e voce a quelle realtà che hanno tante potenzialità di crescita e che possono raccontarsi attraverso la propria arte, la propria bellezza, attraverso la cultura. Siamo partiti da artisti locali fino ad arrivare a concerti come quest'anno nazionali. Il pubblico risponde in massa, siamo veramente felici. Quest'anno tra gli ospiti che abbiamo, mettendo sempre nel nostro cartellone anche artisti locali o artisti comunque emergenti, insieme poi a personaggi affermati. Quest'anno abbiamo quattro premi strega, abbiamo un premio campiello, abbiamo artisti di fama internazionale come Neri Marco Re, Paolo Rossi, l'attore Edoardo Leo, Stefano Massini. Quindi tanta carne al fuoco per un mese che per Fogliano è diventato veramente importante. Un festival che è cresciuto in questi anni da una piccola realtà, siete sformato in uno dei festival più importanti sicuramente a livello regionale, ma forse abbiamo anche superato i confini regionali. Questo grazie ai tanti ospiti che tutti gli anni riusciamo a portare, grazie alla qualità dei nostri coordinatori, grazie alla qualità dei libri che vengono proposti. Quindi un insieme di arti, la letteratura ovviamente come principio, ma anche la musica, il teatro, il cinema e quindi un festival culturale a tutti gli effetti. E con il Fogliano Book Festival si conclude anche l'appuntamento con Dentro il Consiglio. Vi ricordo per tutte le informazioni e gli aggiornamenti c'è il sito inter www.inconsiglio.it Io vi aspetto come sempre qua tra sette giorni, Dentro il Consiglio. Grazie a tutti.